Pietro, Pietro, è il papà che ti parla. Ho bisogno ancora di un mese e mezzo, dammi un mese e mezzo, devo fare quel documentario sulle elezioni, ti ricordi di cui ti avevo parlato? Voglio filmare la campagna elettorale della destra e quella della sinistra, del centro-sinistra. Del centro-centro-sinistra. Loro ci insultano, però noi non dobbiamo reagire, eh? Per carità, noi dobbiamo rassicurare i cittadini. Dobbiamo rassicurare. Rassicurare. Non mi far vedere che tortura, che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema reagisce, risponde di qualcosa. Il problema oggi di questo paese è che dei giudici che sono nella magistratura perseguono degli avversari politici e non dovrebbe in un paese che vuole essere democratico essere consentito e chi è impegnato ideologicamente possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico. Questo è il momento drammatico. D'Alema rispondi, non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa. Non dobbiamo reagire, nervi saldi. Dobbiamo rassicurare. A forza di rassicurare ci arriva una bastonata il giorno delle elezioni. Ho voglia di litigare con qualcuno. Ho voglia di litigare con qualcuno. Ora prendo un'automobilista, mi faccio dare un sacco di botte. Ho bisogno di litigare. Ho bisogno di litigare.